Allora, Giuseppe Pentassuglia, quale canzone ha vinto 10 dischi di Platini nel 2016? Kivu Derlei. Esatto. Chi sono gli autori? Ale e Saba. Esatto. Ed ora, per 136.000 euro in Goliador, mi deve dire quale canzone presentano in vista di Sanremo 2017? Vorrei incontrarti Centofanti. Esatto! Grazie mille. 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 Grazie mille.